Signore e signori, buonasera, presentiamo Greta Mascheretti e il suo nuovo video. Signore e signori, buonasera, presentiamo. 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 Signori, buonasera, presentiamo. Signore, buonasera, presentiamo. Signore e signori, 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 buonasera, presentiamo. Signore, 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 buonasera, presentiamo. Pertorico, hasta que la sobra scritte n'ai vendido Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Firmar la paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuento tu mano scritto Despacito Despacito, me diga il senso di Pertorico si no estás conmigo Despacito Despacito Grazie Molto bene Greta Mascheretti ha cantato insieme al suo coreografo Niccolò Ghilardi Paoli Il video è stato interamente girato ad Alassio Col patrocino al comune di Alassio Arrangiamento musicale Monia Russo e Gabri Sachs Bravissimi Grazie mille, buonasera Bene A questo punto proseguiamo Signore e signori Gerry Scotti Un uomo, uno showman E' più facile dire quello che non ha fatto di quello che ha fatto Grazie Laura, lo sanno i tuoi che ti chiami Laura? Sì, anche la fidanzata E' il destino di quest'uomo che si chiama Laura, fa niente E' di nome Samantha, Samantha Laura di Cognoni Secondo giorno Come si chiama il bravo sassofonista che la gente ha ammirato prima? L'hai già presentato? No Il sassofonista? No Il sassofonista? Ah Maurizio Di Tozzi No, scusa Tu guardavi lui e pensavi che lui fosse il sassofonista? E' stato Eh? Devono dare delle cose strane da mangiare da queste parti Io ho visto il professore come guardava quello lì che faceva questi versi E meriterebbe una narrazione a parte Comunque bravo il sassofonista Grazie al maestro Laura che ci ha tenuto compagnia anche questa sera Pensa Il destino di quest'uomo Io per non sentire despasito sono andato in vacanza in Turchia Te lo giuro su Antonio Ricci Vengo ad Alassio e mi dicono Prima di entrare c'è una sorpresa per te Tagadan Ho beccato il despasito Mi sono salvato solo per la gallinara di sfondo che mi ha dato un po' di gioie Ma quante gioie mi ha dato Alassio Quanti grazie devo dire ad Alassio io Ho cercato di riassumere alcune delle mie sensazioni Sulla rivista Magazine Alassio Che mi ha dedicato nel primo numero una copertina meravigliosa C'è il mio faccione che mamma mia sembra un'immaginetta Ho cercato di raccontare un po' delle emozioni che ho ricevuto In questa città Sin da ragazzino Il primo bagno Imparare a nuotare Il primo bacio serio Ho persino imparato lo svedese No ma per necessità in quegli anni là Nessuno mai mi ha conferito la cittadinanza onoraria di una città E ho avuto le chiavi di Alassio Quindi quanti autori, quanti intellettuali meravigliosi ho potuto conoscere grazie ad aver frequentato questo palco E poi non so altre amicizie Come avrei potuto conoscere il mio amico Antonio Ricci e la sua signora se non passando da queste parti E come avrei potuto fare mille foto questa sera se non ci foste stati voi Grazie di cuore al pubblico che ogni anno mi attende Avete la collezione delle mie foto Ce n'è qualcuno che ce l'ha da quando ero ragazzo Ad adesso Va beh Allora guardate Abbiamo cominciato un po' tardi Ma sicuramente non è colpa del mio parrucchiere È colpa Forse da giovane potevo vantare questa scusa Ma adesso non vale più Devo dire che ci ha regalato una serata di un tepore meraviglioso Anzi di un fresco meraviglioso Io ero molto spaventato dalle temperature delle scorse settimane Perché chi sta su questo palco con i riflettori Sa benissimo che a un certo punto si comincia a grondare Invece questa sera maestro e professore abbiamo un'aria climatizzata meravigliosa Quindi procedo subito con le cose che devo fare prima Ringrazio tutte le autorità militari e civili che sono intervenute Grazie Buonasera a voi Grazie come sempre del vostro lavoro Facciamo un po' di luce sulle autorità Sono anche vestiti bene Sono meravigliosi come sempre L'Italia quest'estate ha avuto a che fare Con varie forme di intervento delle nostre autorità militari E non solo Tra incendi, siccità, problematiche varie Insomma Alassio per fortuna è stata lontana da certe cose Ma sicuramente lo dobbiamo anche al lavoro vostro E dei vostri uomini e delle vostre donne Quindi grazie a tutti voi e grazie per essere qua Anche questa sera Grazie agli amici che gremiscono questa platea Poi alcuni li nominerò Io sono tenuto a leggervi Le comunicazioni ufficiali le leggo Le altre le dico braccio Che anche quest'anno Ecco facciamola vedere se abbiamo la telecamera Il Presidente della Repubblica Grazie Ha mandato questa medaglia Destinata alla città d'Alasio Il premio notore per l'Europa Ecco E ha espresso tramite il Segretario Generale Della Presidenza della Repubblica L'augurio che questo importante evento letterario Possa replicare anche quest'anno Con il miglior successo Saluta tutta l'amministrazione E tutti i partecipanti Noi ringraziamo la Presidenza della Repubblica Con un bel applauso Grazie E riappoggio Riappoggio la medaglia Poi sempre per stare sulle istituzioni Io vorrei leggervi la mail Pervenuta dalla Segreteria Della Presidenza della Liguria Spiacente comunicare Causa impegni istituzionali Precedentemente assunti Il Presidente della Liguria Giovanni Totti Sarà impossibilitato a partecipare Voglio ricordarvi Cos'è successo all'ultimo Che mi ha mandato un telegramma così Qualcuno se lo ricorda Qualcuno no Allora O uno viene O non manda i telegrammi Io sono di questa Di questa mentalità qui Comunque Ci auguro anche lui Saluto Massorat Arrivederci Presidente Il Comune Di stare bene E understand fisicamente Va bene Allora Ah no no Saluto Massorat Era per una manifestazione a Napoli Però I telegrammi di scuse I politici Ce li hanno prestampati Gli ridanno Quando studiano da politici E sono sempre uguali Vedo il mio amico Antonio Ricci Che concorda con me Eh Oggi gli ho detto Antonio Che giornata uggiosa Eh Oggi pomeriggio Non abbiamo avuto voglia Neanche di vederci Io sinceramente Gli ho confessato Che ho dormito Come un povero vecchio Con il plate Sul terrazzo Lì dall'albergo E lui mi ha detto No io mi sono tenuto Perché dormo Il premio letterario Per cui In quella zona lì Non disturbata Antonio Ricci Grazie Perché ci tiene A fare il suo riposino Allora Ci siamo Adesso Dopo aver espletato Le formalità dei saluti I veri padroni di casa Venga Il sindaco Enzo Canepa E l'assessore alla cultura Simone Rossi Eccoli là Vengano Adesso acceleriamo Acceleriamo Siete già armati di microfono Forse sì Forse ve lo danno Forse ve lo meritate Cominciamo dal primo cittadino Buonasera sindaco Va dal centro Buonasera a tutti Così è meglio illuminato Allora In questa Italia Che usa anche l'estate Per lamentarsi Giustamente Di tante cose Dove c'è da lamentarsi Possiamo perlomeno Avere qualche traccia Di bilancio positivo Dico bene Come è andata La stagione Come sta andando Ci sono dei più Non ci sono dei meno E di questo Siamo felici Come frequentatori Di Alassio E come italiani Lascio a te La disquisizione Sul tema Buonasera a tutti Il Mugugno è libero Soprattutto in Liguria Il Mugugno Il Mugugno è una piazza È una piazza molto particolare Comunque questa è stata Un'estate importante Dove abbiamo raggiunto Dei livelli di presenze Notevoli E quindi non può che essere Un bilancio positivo La nostra città In modo particolare Ha toccato credo Un numero di presenze Che era molto Molti anni Che non veniva raggiunto Anche nel mese di luglio Siamo andati in crescita Dispetto di qualche altra Località limitrofa Che ha accusato Qualche pressione Non abbiamo perso Una manifestazione Grazie Come dicevi prima All'ausilio delle forze Dell'ordine Che quest'anno Con il decreto Miniti È stato tutto Molto complicato Sì sì abbiamo visto Tutto molto complicato Però non abbiamo perso Una manifestazione Quindi grazie a loro Per tutto Per tutta l'attenzione Che hanno Che hanno rivolto Verso di noi Verso i turisti Verso i cittadini Perché questo È veramente Un fattore positivo Dopodiché Abbiamo avuto cento giorni di caldo Cento giorni di sole E solo oggi Mi dispiace Oggi sono arrivato Con la nuvola Di fantasma No ma la una Ero sul bagnasciuga Canottiera Pantaloni a gascellare Tentavo di fare il bagno No no Giuro giuro L'unica ora di sole Mi sono pucciato nell'acqua Il risultato L'abbiamo avuto Però è stata una stagione Tutto sommato positiva Non è finita No non è assolutamente finita Abbiamo Abbiamo presenze notevoli Quasi tutto il mese di settembre E quindi questo ci fa ben sperare E poi magari Simone Parlerà di manifestazioni Va bene dai So che vogliamo parlare Solo in positivo Ma qualche cruccio C'è Il problema Una cosa che ti C'è Qualcosa ci serve A parte la bilancia Che quella mi E figurati A me non mi parla più Io ho preso Le bilance parlanti Perché faceva figo Andavi su Cento due Mattino dopo Cento uno Ottocento Dopo una certa cifra Che non vi dico Non mi parla più Salgo Fa una Fa una pernacchietta È una bilancia Maleducata Sindaco mi stimola Perché lui è diventato Molto magro E mi porta I suoi dolci a me Mangiateli tu I tuoi dolci Io li guardo Vabbè Un cruccio Dai a parte la bilancia Adesso a parte scherzi I crucci ce ne sono molti Obiettivi da raggiungere Diversi Però Se devo dire Quello che mi preoccupa molto Su cui abbiamo lavorato Fortemente E forse nei prossimi mesi Vedremo il risultato È l'organizzazione Della macchina comunale Perché con quello Grazie al supporto Del nostro direttore generale Del nostro segretario generale E dei dirigenti Abbiamo fatto un lavoro Veramente incredibile Noi abbiamo preso Credo gli anni peggiori Dell'amministrazione Perché Tra la chiusura delle province La spendi review E quant'altro E abbiamo lavorato Veramente in apnea Adesso Cominciano a vedersi Il tunnel Vedere il tunnel La luce in fondo al tunnel E quindi Io mi auguro Che con Che con questo lavoro Riusciremo poi a portare avanti I progetti importanti Quali la depurazione Il presso scolastico nuovo I parcheggi nuovi La nuova area ferroviaria Che dovremmo acquisire Quindi Tanti progetti Veramente notevoli Per la nostra città Cose che non interessano Direttamente il turista Ma che poi Nel beneficio Della città Si riversa Anche l'utente Quello turistico Va bene Grazie Sicuramente Non ha problemi Il nostro giovane E dai tanti Assessore Allo sport E al turismo Lo si capisce anche Dal fisico Ma anche Alla cultura Dunque Simone Rossi Un anno Dove avete organizzato Tante cose Sul territorio Per i turisti Ma Anche Dovrete fare Degli interventi E delle operazioni Anche fuori Dal territorio Come comunicazione E come propri eventi Si organizziamo Qua ad Alassio Tantissime manifestazioni Avete già ringraziato Le forze dell'ordine Che hanno permesso Tutto questo Non solo Ma anche tanti La protezione civile Tutte le autorità Che ci aiutano A portare a termine Queste manifestazioni Che sono molto importanti Per Alassio Perché rendono Una città divertente Una città Fruibile Una città fruibile Una città allegra A me piace classificarla Anche come la città Più sicura d'Italia Ne sono fortemente convinto So benissimo Che le manifestazioni Soprattutto Alcune manifestazioni Magari fatte In un periodo Di forte affluenza Non portino Tanta gente fuori Però facciano Una buona pubblicità Una buona pubblicità Una bella pubblicità Che costa poco Che è quella Del passaparola Perché se il turista Torna a casa contento Lo racconta Racconta le proprie emozioni Di quello che ha vissuto Nella città Dove ha fatto le sue vacanze E quindi Il passaparola Costa poco E rende E molto redditizio Però Facciamo anche Tante altre cose Cerchiamo di Stare al passo Con i tempi Quindi puntiamo Molto I nostri uffici Di promozione turistica E l'ufficio informatica Punta molto Sui social network Quindi facebook Twitter Stiamo preparando Un nuovo sito Del comune di Alassio Un nuovo sito turistico La nostra pagina Che è aperta da poco Visita Alassio Promuove la città Promuove tutto quello Che si può fare in città Dalle manifestazioni Ma anche dalle Piccole escursioni Dalle visite guidate Di Alassio E non solo di Alassio Perché noi promuoviamo Perché noi promuoviamo Tutto il territorio Un po' Controconolente Da quello che si faceva prima Cioè vedere solo Promuovere solo Quello che facciamo Noi come amministratori Ma a me interessa Naturalmente a tutta La nostra amministrazione Interessa promuovere Il territorio Quindi dare promozioni Anche ai comuni vicini Abbiamo infatti scritto Agli altri sindaci Che faremo promozioni Anche nelle loro città Perché è giusto Che chi viene da Alassio Possa andare Dalla provincia di Imperia A tutta la provincia di Savona E ci sono parecchie cose Interessanti da scoprire Storiche Gastronomiche E i risultati Si cominciano a vedere Siamo molto contenti Speriamo che anche Le altre città Possano fare sistema con noi E quindi avere Una buona promozione Senti Visto che ho citato La parola sport So che avete ricevuto Un riconoscimento importante Questa sera festeggiamo Un autore per l'Europa Ma invece avete avuto Anche come città di Alassio Il riconoscimento comune Europeo dello sport Questa è una cosa Molto importante Perché lo sport è in testa Visto che hai parlato Di social eccetera Ai trend dei nuovi consumatori Dei nuovi turisti Vogliono andare in un posto Ma che accadano Delle cose di sport Fare lo sport Praticare lo sport Certo Perché il grosso problema Nella nostra città Ma di tante località turistiche È la destagionalizzazione Con lo sport Si può destagionalizzare Quindi abbiamo puntato Tanto su questo settore Fortunatamente Abbiamo iniziato Questo lungo percorso Ormai più di un anno e mezzo fa Di candidarci come Comune europeo dello sport Il 2017 Ci ha visto premiati Abbiamo incominciato Da lavorarci da subito Restaurando due palestre Scolastiche Che abbiamo inaugurato Con l'arrivo della commissione A inizio anno Abbiamo terminato L'iter dello stadio Ferrando Abbiamo due squadre di calcio Tra cui una ci ha regalato Anche Un record europeo Di 34 vittorie consecutive Sì l'ho letto sul giornale Non c'ero qua ma l'ho letto Quindi stiamo In questi giorni Restaurando anche Il palalassio Abbiamo fatto grossi lavori Alla piscina Abbiamo regalato A tutti i ragazzi di Alassio Dai 6 ai 18 anni Ben 200 ore gratuite Di sport Di 20 sport diversi 10 ore per ogni associazione Che ha aderito al progetto E regaliamo naturalmente Le ore gratuite Dei nostri impianti A tutte le associazioni sportive Alassio Penso che promuovere lo sport Faccia bene Renda la città più allegra E più sana Va bene Mi sembra che le cose Che ci avete raccontato Meritino un applauso Comune Grazie sindaco Grazie assessore Voi siete già abituati Alla cerimonia Sapete che tra poco Vi alzerete Vi alzerete Cosa c'è? Ci siamo dimenticati Soltanto un piccolo pensiero Ma lo sanno Il solito orologio d'oro Lo sanno Sono 20 anni Che ricevo Sto orologio d'oro La vogliamo Oh è veramente L'orologio d'oro È una dentiera di platino No è un regalo Non si apre in pubblico Non fa tittacca Per cui ragazzi Grazie Vi porto sempre Nel mio cuore E ti dirò Anche un po' Nelle mie analisi Del sangue Questo è soprattutto Colpa tua Grazie Grazie Devo ricordare Che questo è il premio Un autore per l'Europa Il premio consiste In un assegno Di 5.000 euro E vorrei nominare Il presidente Il dottore Ernesto Ferrero E i componenti della giuria Tecnica Che cosa ha fatto la giuria Tecnica Ha scelto i nomi Dei finalisti Quindi ringrazio e saluto Giulio Anselmi Luigi Barlocco Alberto Beniscelli Giovanni Bogliolo Franco Gallea È qui presente Franco Manzitti Lorenzo Mondo Antonio Ricci Naturalmente E Monica Zioni Poi abbiamo i saluti Ai miei amici Della giuria Degli europeisti Voi sapete che La particolarità Di questo premio Che lo rende unico Non solo in Italia Ma in Europa È quello di far giudicare Le opere Dei nostri autori italiani Da coloro Che l'italiano Lo leggono Lo amano Lo insegnano Nelle migliori E più grandi Università europee Quindi ancora una volta Ve li posso additare Cominciando dalla Francia Se si può alzare Claude Casale Berard Buonasera E grazie E merci beaucoup E merci beaucoup Au revoir Ho finito Il mio francese è finito Però ho fatto bella figura Lo stesso Un po' come i Gianni Dorelli Poi Dalla Russia Il mio amico Gennady Kisalev Eccolo là Buonasera Gennady Gennady Ti devo dire Che mi hai perseguitato Anche quest'estate Perché andando In Turchia Per non sentire Il despacito Sono passato Dall'isola di Rodi E sai come si chiama Una delle cittadine Più belle di Rodi Ci devi andare E farti la foto Davanti al cartello Si chiama Gennady Tu vai là Ti fanno sindaco Io vengo Apriamo una trattoria Ammo svoltato Gennady Tu insegni un po' di italiano Chi se ne frega Anche un po' di russo Giuro C'era un cartello Volevo farmi la foto E portartelo Ma poi va bene Ok Grazie di cuore Questo è sempre il solito Che mi dice bravo Poi dall'Inghilterra Martin McLaughlin McLaughlin Hi Martin How are you? How are you? Very fine I understand Fisicamente Dalla Spagna Maria Dalla Germania Il nostro amico Michael Rosner Eccolo lì Ciao Michael Allora La rosa Dei cinque finalisti Scelti dalla giuria tecnica Di cui vi ho parlato prima In tre riunioni In febbraio Aprile e maggio Scelgono questi nomi Mentre il sesto Scaturisce Lo voglio ricordare sempre Dalle votazioni Dei visitatori Allo stand Della città di Alassio Presso Il salone Del libro di Torino Poi successivamente Come avrete capito Queste opere Vengono sottoposte Al giudizio Dei nostri Europeisti Allora Gli scrittori Prescelti Silvia Vallone Paolo Cognetti Mauro Kovacic Donatella di Pietrantonio Ferruccio Parazzoli Ressandro Zuccari O Zuccare Zuccari Hanno presentato Zuccuri Hanno presentato La loro opera Dallassio Nei mesi di luglio-agosto Davanti ad un folto pubblico E adesso Dè il saluto Ringraziamento Al segretario generale Del comune Dallassio Dottoressa Monica Di Marco Che ha raccolto Le votazioni Della giuria Non so se sia presente Ma noi la ringraziamo Perché Il suo è il compito Istituzionale Venga Mi raggiunga Come tutti gli anni Sul palco Il presidente del premio E un autore per l'Europa Il dottor Ernesto Ferrero Buonasera professore Grazie Un piacere ritrovarti Anche quest'anno Sarai munito di microfono Venga Non sia timido ragazzo Venga Venga Tu come sempre Hai prima le motivazioni Vai pure al centro Meriti il centro Del palco E poi il nome Che peraltro È un segreto Di Pulcinella Perché Viene sempre diffuso Però noi Seguiamo Il cerimoniale Allora Do lettura Della motivazione Alla sua terza prova Narrativa Donatella di Pietrantonio Ci consegna Uno dei romanzi Più convincenti Degli ultimi anni In un abruzzo Degli anni 70 Che sembra Condannato A un immobilismo Fuori dalla storia Una ragazzina Di 13 anni Si vede Improvvisamente Restituita Senza una spiegazione Plausibile Alla famiglia Biologica Che non ha mai Conosciuto Quella stessa Che per difficoltà Economiche L'aveva affidata A parenti benestanti Secondo un uso Piuttosto frequente In quegli anni Oggetto di un doppio Abbandono Diventa L'arminuta La ritornata E si ritrova Ad affrontare I misteri dolorosi Di quel passaggio Forzato E le asprezze Di una condizione Diversa E penosa Dovrà sciogliere Una matassa Di silenzi E reticenze Di piccole E grandi Viltà Con esemplare Asciuttezza Espressiva Che si avvale Dell'incisività Del dialetto Senza nulla Concedere Al facile colore Donatella Di Pietrantonio Ha scritto Un romanzo Di formazione Capace Di scandagliare Anche i lati Oscuri Della maternità E l'intensità E l'intensità Del rapporto Artigianato Si muove Controcorrente Dimostrando Ancora una volta Come la vera Letteratura Resti Un insostituibile Strumento Conoscitivo Grazie E allora accogliamola Come merita La prima classificata Donatella Di Pietrantonio Venga A ritirare Il premio Dalle mani Del sindaco Scusi eh Mi sposto Complimenti So che ha fatto Un viaggio Arrivata oggi Di corsa Domani dovrà Muoversi ancora Si goda Questo momento Non solo Di celebrità Ma di successo Perché se lo merita Veramente Io ho grande passione Per gli intellettuali E gli scrittori Magari a lei Non interessa Che fanno anche Una vita normale E fanno un lavoro normale E mi ha molto colpito Il suo Perché lei è Una dentista Per i bambini La cosa Che a me ha fatto Molta tenerezza E molto piacere Grazie di cuore E complimenti Ecco adesso Procediamo Con le foto Di Rito Io mi ci metto Sempre dietro Sperando che uno di voi Vinca il Nobel Grazie di cuore Adesso È l'abitudine Lei la conosce Signora Abbiamo questa Chiacchierata Condotta dal nostro Professore Alla quale Invitiamo Naturalmente Di raggiungerci Tutti i professori Che vi ho prima Presentati Venite Venite sul palco Non siate timidi Sapete che ciascuno Di voi Avrà modo Di fare una domanda Di disquisire Naturalmente Tutto Il Toll show Letterario Viene ancora Una volta gestito Sì Dal 1974 Dal Ah 60 C'è un errore di stampa Allora 1964 Dal Professor Gallea Eccolo là Grazie Complimenti Buonasera Alla signora Donatella La chiamiamo solo così E buonasera Agli italianisti Che hanno votato Per il premio Le faccio i complimenti E sono contento Che lei abbia vinto E c'è un motivo Di fratellanza Tra noi E lei E la sua regione L'Abruzzo È di Teramo Diciamo Provincia di Teramo Ma è una penna Le dico Qual è Sto motivo Di fratellanza C'è un autore Della sua regione Che si chiama Francesco Iovine Che è un autore Che viene considerato Dai critici Come Un po' Il padre Del Neorealismo Letterario Soprattutto Con un romanzo Intitolato Le terre Del sacramento A dire la verità Il neorealismo È più cinematografico Che non letterario E qui avviene L'aggancio Perché nella primavera Del 1943 Su questa piazza Vittorio De Sica Girava il film I bambini ci guardano Che è considerato Il film Base Del neorealismo italiano Allora Nel nome del neorealismo Letterario Iovine E anche Ciampoli Anche Silone E anche gli altri Suoi scrittori Regionali E il realismo Cinematografico Abbiamo trovato Un legame Di fraternità Il libro Della signora Un libro Molto bello Che subisce Le suggestioni In chiave moderna Della Scrittura Neorealistica Ha già detto Il dottor Ferrero Nella motivazione Un po' La trama Il libro Si svolge In un Cerchio di anni Molto limitato C'è una data Una sola Che lei scrive Nel libro Pagina 135 Ci diciamo subito In cui si parla Del Natale Del 1976 La ragazza Protagonista A 15 anni Dal che si deduce Che era nata Nel 61 62 E quindi L'arco di tempo È dagli anni 60 Agli anni 75 80 Lo diciamo Con precisione Questo dato Perché la ragazza Viene data Un affido Dalla famiglia E quei tempi Non c'erano leggi Che correvano L'affido E quindi L'affido Era un fatto Prittamente privato Una famiglia Cedeva la figlia All'altra Senza bisogno Di interventi Dello state E altre cose Poi lo state Intervenuto Ha fatto due leggi Una nel 1983 E una del 2001 Che hanno regolato L'affido Con l'intervento Dello state Delle motivazioni Molto precise Questo lo diciamo Per il semplice fatto Che ha la base Del libro Agento Ferrero Che la ragazza Torna a casa All'età di 13 anni Faceva seconda media Viene portata a casa Per un motivo Che lei non sa E che le dirà Non soltanto dopo Torna dalla famiglia Che l'aveva accolta In affido Una famiglia Senza figli Formata da Una donna Un uomo Che erano Di carattere benestante L'uomo era Un carabiniere E viene nominato Sempre con il carabiniere La donna Si chiama Dalcisa Viene riportata A casa In una casa Che era Invece In una condizione Di arretratezza Terribile Sia dal punto Di vista culturale Sia dal punto Di vista economico Una casa Con una madre E un padre Il padre faceva Il lavoratore Delle fornaci E con quattro fratelli Il più vecchio Vincenzo Poi Sergio Un malbostoso Di alto livello Poi Adriana Di cui ha parlato Ferrero E Giuseppe Il più piccolo Un ragazzo Con delle lacune Particolare Dal punto Di vista Psicologico Cognitivo Lei Entra In questo Ambiente E deve Adattarsi Ad una realtà Tante lo dice Non c'è Maggior dolore Che ricordarsi Del tempo felice Nella miseria E siamo In questa condizione Il libro Può essere letto Sotto due angolature Qui cominciamo A parlare Con lei Può essere letto Secondo L'angolatura Del critico Il quale usa Tutte le sue motivazioni La struttura Del libro Gli ascendenti Letterari Le norme Le regole Le psicologie Dei personaggi E quant'altro Ma esiste anche Una lettura Di un lettore Il quale Il lettore Invece Vede il libro In una maniera diversa Cioè Si immedesima Nei personaggi Entra dentro Di loro Li paragona Con la propria realtà Personale E fa Un Rapporto Di attualizzazione Del messaggio Io questa sera Le faccio due o tre domande Dal lettore Del libro Abbiamo parlato Il 28 luglio Un'ora e mezza intera Dal punto di vista critico Ora cambiamo registro Allora io vorrei Che lei Donatella Entrasse con me Nella psicologia Della protagonista Vorrei che lei Mi spiegasse Ci mettesse Proprio Nell'interno Del personaggio E mi spiegasse Quali potevano essere I sentimenti Che questa ragazza Ben educata In un ambiente Diciamo Di una certa cultura La madre era Catechista Della chiesa Il papà Era una persona Di dignità pubblica Poteva essere Nell'entrare In quell'ambiente In cui quando entra La madre Per tutta risposta Dice Ah Sei arrivata Posala la tua roba Una madre che non vede Una figlia da 13 anni Questa è la frase Che le dice Mi vuole un po' spiegare Come vede Questo personaggio Nell'interno Grazie Grazie a tutti E grazie Anche di questa domanda Non da critico Ma da Lettore Per me è più facile Rispondere Da questo punto Di vista Peraltro Perché Questo Personaggio Anzi questa Protagonista Mi contiene Io sono Dentro Dentro di lei E Penso Di essermi Molto identificata Con quello Che lei prova A partire Da questa Prima pagina Dove appunto Lo ha Compagnata Su questo Pianerottolo Su queste Scale Di questa Palazzina Popolare Dove abita La sua Prima Famiglia La sua Famiglia Biologica E Allora In questo Incipit Accompagniamo La Ragazza Lungo queste Scale Bussa A questa Porta Che non Vuole aprirsi C'è questa Serratura Inceppata Incantata E Anche questo Ci suggerisce Simbolicamente Qualcosa Ci sono Ci sono questi Attimi In cui lei Aspetta Sul pianerottolo Guardando Questo Ragno Che si Dimena All'estermità Del filo Che ha Tessuto E Aspetta Che la Porta Si Sblocchi Ecco Io Credo Che In quegli Attimi Lei si Senta Veramente Perduta Spaisata Completamente Spostata Da tutte Quelle Che erano Le sue Certezze Precedenti In pochi Giorni La sua Vita Si È Completamente Rovesciata Lei Ha Condotto Ha Creduto Di condurre Una vita Assolutamente Normale In questo Ambiente Piccolo Borghese Che lei Ha Descritto Fin Quando Improvvisamente Questa Madre Adottiva Informalmente Adottiva Le ha Rivelato La verità Sulla Sua Origine Quindi Da un Momento All'altro Lei Ha Scoperto Che Quelli Che Ha Sempre Chiamato Mamma E Papà Da Quel Momento In Poi Dovrà Chiamarli Zio E Zia Che 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 è Figlia Di Altri Altri Sconosciuti Che Lei Non ricorda Di avere Mai Visto Perché Non può Avere Di quei suoi primi Genitori Genitori A cui Viene Forzatamente Restituita Non può Avere Una memoria Consapevole Sicuramente Ce li ha Scritti Nel corpo Nei geni Ma Lei Non sa Nulla Di Loro Quindi In questo In questi Brevi Momenti In cui L'Arminuta Aspetta Che la Porta Si apra E Completamente Priva Di Riferimenti Perché I genitori Che ha Creduto Suoi Non Non lo Sono Veramente Non sono Più Li ha Persi E Quelli A cui Viene Restituita Sono Per lei Dei Perfetti Sconosciuti Quindi C'è Proprio Una Crisi Dell'appartenenza Lei Non sa Di chi E c'è Una frase Nel libro Molto Bella Dice Credevo Di avere Una Mamma Adesso Ne ho Due Ma Non Ne ho Nessuna Infatti Si definisce Orfana Di Due Madri Viventi Proprio Perché Entrambe In momenti Diversi Per motivi Diversi L'hanno Ceduta E questo Passaggio Di consegne Tra le famiglie E a tutti Gli effetti Un abbandono Peraltro Quello Che dobbiamo Dire A proposito Di una Bambina Lei è poco Più Che una Bambina Una Preadolescente E che Quando L'abbandono Si ripete Il bambino Lo vive Come una Colpa Personale Cioè Il bambino Paradossalmente Salva Il genitore Di qualunque Cosa Possa Macchiarsi Perché Salvare L'immagine Ideale Del genitore Significa In qualche Modo Sopravvivere Salvare Se stesso E quindi Ovviamente Queste sono Dinamiche Inconsce Ma quindi Il bambino Preferisce Incolpare Se stesso Allora Se Un bambino E Vittima Di un doppio Abbandono Comincia A sentire Dentro di sé Che è lui Sbagliato Che è lui Indegno Di Essere Amato Indegno Di amore Che quindi Questi Abbandoni Sono In qualche Modo Dovuti a una Sua Colpa A un suo Essere Sbagliato Certo È molto È molto Vero Questo C'è una frase Che lei Penso ama Parecchio L'Arminuta Sta partendo Per la Corriera Per andare Alla scuola Superiore E a terra C'è la sorella Adriana La sorella Adriana Vorrebbe Che La sorella Le facesse Posto Nella casa Dove Andrà A studiare E poi dice Ecco Forse Non mi volete Per il semplice Fatto Dice La ragazza Piccolina Che io Parlo Troppo A vanvera E forse Sbaglio Lei Gli risponde Non hai Colpa Se dici La verità È la verità Che qualche volta È sbagliata È un po' Il concetto Che lei Sta dicendo In questo momento Sì Grazie Di averla Ricordata Perché in fondo Questa è Questa è La frase Chiave Di tutto Il libro E L'Arminuta La dice Alla sorella Dopo che Adriana Le ha Ancora una volta Rivelato La verità Sulle motivazioni Per cui è stata Restituita Alla Alla famiglia Naturale Ovviamente A questa rivelazione Segue un momento Di Allontanamento Tra di loro L'Arminuta Rifiuta Adriana Perché è Diciamo L'oggetto Più vicino Su cui Scaricare La sua rabbia La sua Frustrazione Ma poi Presto Molto presto Si riavvicinano E nel momento In cui Adriana Fa un po' Mea culpa E Si Si pente Quasi Di aver Detto La verità Alla sorella Lei invece Subito La Assolve E Lì Veramente È contenuto Un po' Il Il nucleo Il cuore Del libro Ecco Poi io passerò Il microfono Agli italianisti Faranno loro La domanda Però vorrei ancora Farne una C'è un personaggio Nel libro Che è forse Quello che più di tutti Storicizza Questa vicenda Ed è Vincenzo Il fratello Maggiore Perché la storicizza Perché Crea Una scissione Nei rapporti Col padre Siamo negli anni Sessanta Gli anni settanta Ricordate Marcuse Ricordate L'assassinio Del padre Tutti i problemi Che venivano A dibattito Generale Prodotti Attraverso La psicologia Di Freud E il marxismo È un concetto Sempre strano Ma che Cognetti Mette nello stesso Nel suo libro Anche nel libro Di Cognetti C'è Questo Conflitto Tra figlio E padre Che è Un tema Tipico Del periodo Prima Forse C'era Nei confronti Del padre Una reverenza Un rispetto Che adesso Finisce È una figura Importante Quella di Vincenzo Uno che si stacca Che si ribella E quando ci si ribella Le cose Possono andare In due maniere Possono andare bene Possono andare male Qui vanno In un certo modo Che forse Non si aspettava Vincenzo È una figura Importante Questa L'ha visto In questa luce In questa luce Culturale Dell'epoca La ringrazio Molto Per Per questa domanda Perché Vincenzo È Poco più Che analfabeta E quindi Non sa Nulla Di Freud E di Marcus Di Cognetti E di me Non sa Nulla Di noi Ciò Nonostante Io Gli ho voluto Dare Gli ho voluto dare La possibilità Di agire Quello che In quegli anni Agitava La società In generale Quindi Ho voluto Fargli arrivare In quel suo Piccolo mondo Isolato E deprivato Questi fermenti Lontani Perché Perché A volte Accade Che Quasi Per misteriose Osmosi Questi Fermenti Culturali Appunto Geograficamente Molto Lontani In qualche Modo Riescano Quasi Goccia A goccia Ad arrivare Nei luoghi Più remoti E così E per Vincenzo Certo Lui Interpreta Questa Sua Ribellione Al padre Come può Con i poveri Strumenti Che ha Non può Contestarlo Il padre Su chissà Quale piano Lui lo contesta Per quello Che gli è possibile Lo mette Di fronte Al suo Fallimento O se non proprio Fallimento La sua Difficoltà Di sfamare La sua famiglia I suoi figli E quindi Qual è Il suo atto Di sfida Più grande Verso il padre Si procura Un prosciutto Non sappiamo Come Non sappiamo Se se lo è guadagnato Se l'hanno Pagato Con questo prosciutto O se l'ha rubato Perché Vincenzo Rimane sempre Un po' In questo limbo E noi non sapremo Mai Io stessa Non so Se è un deviante O se è semplicemente Un ragazzo Che ci sta provando A cambiare La sua condizione Ma comunque Lui si ripresenta Con questo prosciutto E lo mette Di fronte al padre Costringe I fratelli Affamati Ad aspettare Fino a sera Il rientro Del padre Perché Questo prosciutto Il padre Lo deve vedere Intero Non Già tagliato Uno schiaffo Dato al padre Ecco Faccio ancora La domanda Poi passo il microfono Mi riservo Poi alla fine Quando loro hanno finito Di fare un'osservazione Una riflessione Personale Sul suo libro Da lettore Quando io ho presentato Lei il 28 di luglio Ho usato un termine Che mi è sembrato Che lei non approvasse Ho detto Parlando Della mamma Reale Della Arvenuta È Anaffettiva Lei mi ha detto No Mi vuole spiegare Un po' Il concetto Perché La mia L'aggettivo Che ho usato Non andava bene La ringrazio Le chiedo scusa Beh In realtà All'inizio La madre naturale Ci appare Anaffettiva Perché Lei prima L'ha raccontato Perché Quando questa Ragazzina Rientra Dopo 13 anni Il comitato Di accoglienza Non fa grandi feste Tutto quello Che lei trova Da dirle Senza nemmeno Alzarsi Dalla sedia Dove sta Cullando Questo bambino piccolo È una constatazione Sei arrivata Posa La roba Che porti Quindi Lei ci appare Anaffettiva Ma Secondo me Per Per due motivi Uno È perché Noi la vediamo Con gli occhi Della ragazzina Della Minuta Che Non la conosce Che non si aspetta Da lei Nulla di buono L'unica cosa Che sa Di lei E che l'ha Abbandonata E due È perché Forse Questa madre È come Paralizzata In quel momento Anche lei Forse Ha una grande Paura Di questa Figlia Che ritorna E quindi E quindi Veramente Non riesce Ad alzarsi Da quella Sedia Non riesce A fare Uno spostamento Fisico Verso di lei Un movimento Non dico Un abbraccio Ma Ma almeno Ecco Un avvicinamento Io credo Che lei Abbia Una grande Paura E comunque Sempre per quelli Che sono I suoi poveri Mezzi Anche un grande Senso di colpa Più che Giustificato Nei confronti Della figlia Allora ci Appare Non è che Non Non posso Contestarla Solo fino a un certo Punto Ci appare Anaffettiva Ma poi Vedremo Nel corso Del romanzo Che qualcosa Accade Passiamo La parola A voi Andiamo in ordine Così Va bene Subito a me Beh Grazie 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 anche Di averci detto Che noi Dobbiamo Porre le domande Come critici Perché se no Avrei preferito Anch'io Parlare Come lettore Devo dire Che Il suo romanzo Se parliamo Su questo livello Diciamo Invita molto All'empatia A me Personalmente Mi ha ricordato Un momento Molto brutto Nella mia vita Quando Molto giovane Sono entrato In caserma E da un momento All'altro Mi sono ritrovato Abbandonato Senza protezione In un mondo In un mondo Estraneo E credo Credo Giustamente Sulla frase Della protagonista Che dice Ho due mamme E non ho nessuna E la mia domanda Sarebbe Perché non parla Mai O quasi mai Del padre Grazie In effetti Vengo spesso Improverata Proprio riguardo All'assenza Dei padri O in generale Mi viene Improverato Di trattare male Le figure Maschili Personaggi Maschili Io credo Che in realtà Non sia così Non è che io Voglia trattare male I padri O i personaggi Maschili E solo che Non sono loro L'oggetto Della mia Narrazione E Il mio tema Il mio demone È sempre La maternità Soprattutto Come accennava Prima Il Dottor Ferrero Nei suoi aspetti Meno rassicuranti Più Anomali Ecco L'abbandono Il rifiuto E allora Se quello È il tema È quasi Inevitabile Che le figure Maschili Siano un po' Marginali Un po' Laterali Peraltro Devo dire Che il padre Almeno il padre Biologico Anche lui Credo sia Un personaggio Che un pochino Cresce Nel corso Del libro Perché Ripeto Sempre questa Questa premessa Perché secondo me È necessaria Per quelli Che sono I suoi poveri Mezzi Anche lui Fa qualche passo Verso questa figlia Per esempio Quello che fa Sia lui Che la moglie È di riconoscere L'unicità La differenza Di questa ragazzina E decidere Di investire Sul suo futuro Cioè quindi Preservare Questa unicità Che le viene Da quei 13 anni Di vita Nell'altra famiglia Che le ha dato Delle opportunità Buone scuole Scuola di danza Piscina Quindi in qualche modo Questi genitori Decidono Che lei Deve un po' Proseguire Nel solco Segnato Dalla vita precedente E il padre L'accompagnerà Nella città Alla città Con la sua Macchina Scassata Quando la ragazzina Tornerà lì Per proseguire Gli studi Io ho trovato Che questo sia Un gesto Di grande Affettività E lì che Questo padre Cresce Prima il dottor Ferreo Parlava di romanzo Di formazione Ma è anche un romanzo Forse di formazione Degli adulti Soprattutto Dei genitori Biologici Con i loro limiti Certo Però questo padre Si sfida Affonta Il traffico Di questa città Dove tutti gli stombazzano Per le sue Indecisioni E va Ad affidare Questa ragazzina A una signora Che la terrà A pensione E in qualche modo Chiede A questa donna Di farle Da madre Mentre È lì Quindi Insomma Grazie Allora Volevo ringraziarla Anch'io Per questo Bel romanzo Molto forte Intenso E penetrante Tutto quello Che è stato detto Ci ha permesso Di capirlo Anche meglio La cosa Che mi ha Colpito E sulla quale Vorrei qualche Precisione È che In fondo Abbiamo due Ritorni Cioè Il ritorno Alla famiglia Biologica Che è un passaggio Necessario Perché lei Possa tornare A se stessa Cioè Per poter Riscoprire Se stessa Deve passare Come Per una catabasi Insomma A ritornare Al passato Come per una Seconda nascita E ritornare Poi a quella Che doveva essere La sua vita Ma in questo In questo processo Lei Si fa carico Anche della sorella Più piccola E trovo bellissimo L'ultima frase Del suo romanzo Dove dice La complicità Ci ha salvate Dunque La scelta Della vita In fondo E il finale Positivo Dopo Questo ambiente Degradato Queste sofferenze Questi dolori E questa incomprensione Tra Bambini Adulti Trovo Questa Questa fine Molto positiva Questo Rapporto Fra le due sorelle Noi francesi Si direbbe La sororité Che è stata così Sviluppata Studiata Dalle femministe Questo Rapporto Fra sorelle È un dato Autobiografico O È una scoperta La ringrazio molto Purtroppo Non può essere Un dato Autobiografico In quanto Io sono Figlia unica Però Ho sempre Molto sentito Come mancanza La sorellanza E quindi Forse Paradossalmente Ho molto Conosciuto Il mondo Delle Sorelle Questa Possibilità Di un rapporto Tra pari All'interno Della famiglia La ringrazio La ringrazio molto Anche per avermi Rassicurata Sul finale Perché Mi è capitato Invece di essere Rimpoverata Da un critico Per questo finale Che gli suonava Un po' Come Happy End E invece Io non Trovo Che sia Poi Così Felice Il finale Perché in fondo Queste ragazzine Fanno Un bagno Si concedono Questa Ora Nell'acqua Questa ora Di libertà Di intimità Poi Ognuna Di loro Dovrà Ritornare Alle Proprie Difficoltà Però C'è questo Momento In cui Si vedono Insieme E L'Arminuta Ha proprio La consapevolezza Di quanto La forza Di questo Legame Sia stata Per loro Due Salvifica Di quanto Questa complicità Appunto Le abbia Salvate E poi E anche Molto vero Quello che Lei diceva Del ritorno Necessario Per poi Di nuovo Tornare a se Stessa Perché In fondo Se L'Arminuta Non fosse Stata Restituita Forse La sua Vita Sarebbe Continuata In questo Gigantesco Non detto In questa Falsità Di fondo Che Sottostava Proprio Alla sua Esistenza Alla sua Vita E invece Per lei È necessario Scoprire Che è figlia Di due mondi Apparentemente Inconciliabili E forse La scommessa Per lei È proprio Trovare Una sintesi Tra questi due mondi Andiamo in Russia Tornando sempre Comunque In Italia Nelle Marche Nella Fattispecie Buonasera Anch'io sono ovviamente Rimasto Catturato Sin dai primi capitoli Brevissimi E lampanti Come Flash Catturato Da una straordinaria Vividezza Dei suoi personaggi Che sembrano prestati Piuttosto Da un'opera Di Mascani Che dalle musiche seriali Non sono personaggi Particelle Ma sono Uomini In carne e ossa Che agiscono però Tornando appunto Alla sua doppia Impostazione Critica In quello Che un famoso critico Avrebbe chiamato La cieca avventura Di vivere Cieca Ma anche dolorosa E a un certo punto Il suo libro Mi è sembrata Mi è sembrato Una metafora Una raffigurazione Raffigurazione Del parto Della nascita Di come si nasce E si rinasce Più volte Nella vita Infatti La protagonista Viene Riproiettata Da una sorta Di utero Che era La prima famiglia Degli zii Dall'affetto Incondizionato In uno Spazio aperto Del mondo Spesso ostile Nemico In una tela O ragnatela Di rapporti Finora sconosciuti E da qui appunto Parte la mia domanda Che si riallaccia A quanto diceva prima Se Questa Per questo Suo scritto Sia Una testimonianza Una rivisitazione Della vita vissuta Anche se Le fili uniche Come ha detto Oppure Una metafora Per l'appunto Un inventivo Un inventivo d'autore Soltanto Perché spesso L'immaginazione È più forte Della realtà Grazie Sì Condivido Questo Sono vere Entrambe Le cose Un po' Questo libro È nato Da questo Da questa mia Urgenza Narrativa Che riguarda Sempre La La maternità E che corrisponde Evidentemente A un mio nodo Personale Irrisolto Ma un po' Nasce anche Dai racconti Dai molti racconti Che io da bambina E da ragazzina Ho sentito A proposito Di questi bambini Dati Era una pratica Piuttosto Comune Nel mio territorio Ma non solo Girando l'Italia Per le presentazioni Ho visto che Accadeva un po' Dappertutto Quasi a ogni Presentazioni Alla fine C'è qualche Lettore O lettrice Che viene a dire Io ho avuto Una storia Del genere Oppure Mia zia Una mia amica Ha avuto Una storia Del genere Ecco Io da bambina Vivevo in un borgo Molto piccolo Isolato Non c'era Nemmeno la corrente Elettrica Non c'era E non c'era La televisione Quindi la sera Gli adulti Facevano la televisione Facevano i talk show Raccontavano un po' Le storie Della Contrada Del paese Del territorio E spesso Si parlava Di questi Bambini Che venivano Dati E per quella Che era La mia Sensibilità Acerpa Di bambina Queste storie Mi ponevano Grandi Interrogativi Innanzitutto Mi facevano Pensare Che la condizione Di figli Non fosse sicura Cioè Che non fosse Un dato Permanente Che potevi essere Figlio oggi Ma poi domani Non più Magari Se ti comportavi male Potevano darti A qualcun altro Ecco Questi erano Un po' Si Nascevo a morire Questi erano I miei vissuti Di bambina E poi Mi chiedevo Sempre A proposito Di questi Bambini Che a volte Venivano anche Dati Non proprio Piccolissimi Come l'Arminuta Ma Più grandicelli Mi chiedevo Sempre Di chi Loro davvero Si sentissero Figli Quindi sempre Questa questione Dell'appartenenza E quindi Della identità Ecco Michela Murgia Ha sintetizzato Molto efficacemente Questo problema Dell'appartenenza Legata Alla identità E dicendo In una recensione Proprio Della minuta Che non puoi dire Chi sei Se prima Non hai capito Di chi sei D'altra parte È esperienza Comune Io credo Un po' Dappertutto Specialmente Gli anziani Per capire Chi sei Ti chiedono Di chi sei Figlio Andiamo in Inghilterra Stavolta Andiamo in Inghilterra Di nuovo Faccio anche io I miei complimenti Per questo Bellissimo libro Soprattutto perché È un libro brevissimo In un centinaio In un centinaio Di pagine Lei riesce A metterci dentro Così tante cose Cose fondamentali Della famiglia Della crescita Di ognuno La mia domanda Riguarda un po' Possibili modelli Prima il professore Ha fatto il nome Di Jovine E lei mette in esergo Il romanzo Elsa Morante Una frase di Elsa Morante Leggendo questo romanzo Che con i forti contrasti Tra città E campagna La descrizione Della miseria Dell'Italia rurale La violenza Che esplode Dentro la famiglia I riti Dei contadini Quella scena Memorabile Della Comare Carmela A me è venuta in mente Molto Pavese Non so se È uno dei suoi modelli Perché Anche il modo In cui lei Chiude alcuni capitoli Forti E violenti Con una specie di Understatement Notevole Quindi è solo questo Se Pavese Figura Tra i suoi modelli Ecco Beh sì Pavese L'ho letto E amato Molto L'ho letto Molto Forse troppo presto Troppo precocemente Perché In adolescenza Leggevo Forse scrittori Troppo impegnativi Uno di questi Era Pavese Poi leggevo Moltissimo Sarta A 14-15 anni Non so perché Mi sembrava Una scelta Mi sembra oggi Una scelta Un po' Prematura E quindi Credo che Pavese Sia per me Una di quelle letture Che ti cambiano Soprattutto se Fatte appunto Nell'età della formazione Ti cambiano Ti entrano dentro E poi Magari Ne perdi La memoria Consapevole Ma Continuano A lavorarti E Quindi io Oggi Stasera Posso dire Visto che lei Me l'ha chiesto Che Questo è possibile Ci penso In questo momento E le rispondo Di sì Perché Certe letture Sono un po' Come Come l'acqua Che si ingrotta E poi Riemerge Come il fiume Cassico Grazie a lei Andiamo in Spagna A concludere Concludiamo Dato che Abbiamo sentito La sostanza Esposta A più voci Tra cui Quella più autorizzata Della Della Autrice Io Ho poco Poco Da aggiungere Sono d'accordo Che Si tratti Almeno Che Utilizzare Come chiave Di lettura Il genere Del romanzo Di formazione Aiuti molto A capirlo Ora Se si legge In questo modo Io farei Una domanda Fra le due Sorelle Qual è più Formata Dall'altra Sì È una bella Domanda Apparentemente È Adriana Che forma L'Arminuta Perché L'Arminuta Rientra In questo Ambiente Per l'es Conosciuto Ma che Invece Per Adriana È L'ambiente In cui è sempre Stata In cui È nata E ha imparato A sopravvivere Quindi lì È Adriana La più Forte Quella Che ha Il miglior Adattamento A quelle Condizioni Di vita Così Estreme Anche E allora Lì È lei Che forma Che è maestra Che accompagna La sorella A conoscere Gli aspetti Anche quelli Più Traumatici Di questo Di questo Mondo In realtà Poi vediamo Che è solo una questione Di contesto Di ambiente Appunto Perché In quell'unico Giorno In cui si concederanno Questa gita al mare In cui prenderanno L'autobus E andranno Al mare Vedremo Che lì Dove invece Adriana Non è mai stata Adriana non ha mai visto Il mare Improvvisamente I ruoli Si rovesciano Adriana È inerme Di fronte a questo Muro di acqua A cui non riesce Nemmeno ad avvicinarsi E Non riesce Nemmeno a pulirsi La sabbia dal naso Quando cade Dall'altalena È per lei Veramente Un mondo Estraneo Dove lei Non ha gli strumenti Allora lì È la sorella Maggiore Che invece Viene da Quel mondo Che L'aiuta La introduce A questo Nuovo mondo Quindi io credo Che loro Siano Molto Complementari Ognuna Ha strumenti Diversi A seconda Che Può usare Al meglio A seconda Del Del contesto L'Arminuta Ha questo bagaglio Culturale Che si porta Dietro Quando rientra In paese Invece Adriana Ha l'intelligenza Pratica Che L'aiuta A sopravvivere Giorno per giorno Di ora in ora Quasi Entrambe Insieme Fanno una forza Chiudiamo Con una riflessione Io sono abituato A fare le domande Ma questa volta Voglio darle Una risposta E voglio Dire i sentimenti Che ha generato In me Dal lettore Questo libro Di solito Io vado a cercare Dei messaggi Nel libro Non è che l'autore Faccia dei messaggi L'autore racconta Delle storie Ma sono le storie Che ti danno Delle idee Ti danno Dei messaggi Raccontando Questa storia Di un tredicenne Che da un ambiente Di un certo livello Viene mandata E portata Senza ragioni In un ambiente Culturalmente E economicamente Deprivato C'erano Dei rischi Terribili Che questa bambina Venisse Fagocitata Da quest'ambiente E perciò Si inarridisse E si perdesse Invece Il contrario Questa bambina Agisce come un lievito In questo ambiente E porta dietro di sé La crescita Della sorella Che diventa Imitatrice Di lei E anche Della madre La madre Viene affrontata Dalla professoressa Della terza media Che le dice Se lei non fa studiare Questa ragazza Che è un genio Io la denuncio Agli assistenti sociali E le faccio passare I sorci verdi La mamma Impreca Contro la professoressa Ma poi si trova Le possibilità E la ragazza Cresce E va a iscriversi Ad un liceo E diventerà un genio E quando Praticamente Il professore Del liceo Loderanno La ragazza La madre Si sentirà Ringaluzzita Come se fosse lei Che ha fatto Questa decisione Allora io mi pongo Il problema Se Una ragazza Di 13 anni Riesce a far questo In un ambiente Molto Difficile Noi che siamo Più anziani Non potremmo fare Lo stesso Nell'ambiente nostro E quindi vedo Questo libro Molto positivo Lo vedo Come un cammino Verso la speranza La speranza È una virtù Teologale Insieme alla carità E alla fede Noi parliamo Molto di carità Molto meno Di speranza Da cui Da cui si genera La fede Lo diceva Dante Fede Sostanza Di cose Sperate Ed argomento Delle non parlenti È un concetto Fondamentale Quando dico fede Intendo Sia in campo civile Che in campo religioso Allora io in questo senso Leggo la conclusione Del libro Quella conclusione Del libro Che due O tre Critici Le hanno criticato Io Non ho la vergogna Di dire che sono La Porta E sono la Stancanelli Che praticamente Hanno criticato Quest'ultima parte Per me è la parte Più bella del libro Perché dà la spiegazione Di tutto quanto Queste ragazze Vengono invitate A pranzo Da una famiglia Vanno a pranzo Da quella famiglia E assistono A un episodio Terrificante Distruttivo Escono E vanno a fare Questo bagno Si spogliano Siamo alla fine Della primavera All'inizio dell'estate La gente Alla spiaggia è poca Si spogliano Restano con i documenti Con i vestiti intimi E vanno in mare Questo bagno Che fanno È una volontà Di pulizia È una volontà Di dimenticare Le cose Che hanno sentito Poco prima In quel pranzo È la volontà Della speranza In un domani migliore C'è la ricerca Di una complicità fraterna Che è costruttiva E quindi C'è questo senso Positivo Oggi La speranza Forse a qualcuno Non piace La parola Perché È un linguaggio Religioso Allora Molti la chiamano Utopia Io Conosco una piccola poesia Che riguarda L'utopia Che poi in fondo È come la speranza La speranza E l'utopia Sono Zuppa e pan bagnato Come diciamo noi La poesia Che Dico a tutta la piazza È bellissima Brevissima Molto reale Io la uso spesso È una poesia Di Galeano Un uruguayano Sudamericano Titolato Utopia Io ci aggiungo La speranza La poesia Dice questo Che cos'è La speranza Utopia È qualcosa Che abbiamo Davanti agli occhi Io faccio Un passo Per raggiungerla E lei ne fa due Io faccio Due passi E lei ne fa Quattro Io faccio Quattro passi E lei ne fa Otto Non la raggiungerò Mai Allora A che cosa serve La speranza Utopia Serve a camminare E ad andare avanti Questo È il senso Del libro Grazie Questa ce la segniamo Ogni anno Lei ci lascia Il pensierino Della sera La ringrazio Allora signora La vincitrice Adesso c'è un momento Molto particolare Ma che fa parte Della storia Del premio Chiamo la signora Berrino Perché la signora Berrino Le chiederà Di fare una firma Che poi verrà Come lei già saprà Messa su di una piastrella E farà parte Dei ricordi Grazie signora Del muretto Del mitico Muretto La tua piastrella Ha cambiato posto Lo chiedi tutti gli anni Non è più alla portata Delle zampe Dei gatti E dei cani Ma è in alto In un posto degnissimo Lei è stata molto gentile A dire le zampe Dei cani Ma i cani Usavano un'altra cosa Però Adesso Vorrei sapere Chi è lo sfigato Che hanno messo Al mio posto E io stasera Vado a vedere Sotto gli innamorati C'ero io Bassi All'altezza Di anche Bassotto Adesso ci deve essere Un altro Io sono Mi hanno detto In una postazione Molto più bella All'inizio Proprio sull'angolo Una roba da fighi Per cui Ecco signora Mi auguro Che non l'abbiano Dato il mio posto Perché è libero No No eh Io ho dei nomi Ho dei nomi Ho dei nomi Da mettere In quel punto lì Se vuoi E li diciamo Comunque grazie Grazie anche Dello spostamento Grazie Mostro Va bene Allora Maestro Tu avevi due o tre Interventi musicali Sappi che ne ho conservato Solo uno Alla fine Questo non è colpa tua Ma è colpa di questo profumo Di pizza Che non so da che parte venga Ma che è stata La tortura più grande Della serata E me ne darete atto Ascoltare delle belle cose E avere sotto Un profumo di margherita Anche quattro stagioni Io ho riconosciuto Anche un calzone Allora guardate Guardate Tagliandini I coupon Inviati Alla biblioteca civica E consegnati Allo stand Della biblioteca Del salone Del libro di Torino Maggio Sono stati estratti Dal segretario Alla presenza Del segretario generale Del comune di Alassio La dottoressa Monica Di Marco E abbiamo i cinque weekend Che io sono tenuto a nominare Cinque weekend offerti Dall'hotel al mare Hotel Bristol Hotel Corso Hotel Eden E grande hotel mediterranea I fortunati vincitori sono La signora Adriana Bruera Che è di Luserna San Giovanni Ilaria Ruffato Che è di Torino Michele Arpaia Che è di Milano Stranamente abbiamo un milanese Fabrizio Stefanelli Che è di Ivrea E per non smentirci Visto che Il salone del libro di Torino Si svolge a Torino C'è anche Laura Messe Che è di Torino Beh è logico Che i torinesi Vincono un po' di più Perché ci vanno un po' di più Va bene Allora se siete d'accordo Adesso abbiamo ancora Un momento musicale Lei è pronto maestro? Mi conferma la canzone Cantata da Monia Russo? Eh? Allora la presentiamo Venga Venga Monia Grazie Al maestro Fabio Laura Il piacere di accompagnarla Buonasera Lei l'ho già conosciuta L'anno scorso È ancora più brava? Ce lo dimostri Va bene Ok Grazie Al microfono Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti